Campo basso in attesa della decisione del Consiglio di Stato. Questa mattina si è svolta la discussione tra le parti, come evidenzia il sito internet dello stesso Consiglio. Manca la decisione, secondo fonti, che arrivano dagli ambienti romani. L'esito dovrebbe arrivare domani mattina, verosimilmente come è successo con il Tar del Lazio ad inizio mese. Poco da aggiungere, se non che tutta la città attende con ansia un giudizio quanto mai atteso. Sono passati oltre due mesi dal momento in cui la televisione di Reganati, UTV, anticipò le problematiche del Campo basso all'atto del termine perentorio dello scorso 22 giugno. Due mesi di fuoco, difficili, complessi, che vedranno la soluzione definitiva nella giornata di domani. L'auspicio è che si possa tornare a parlare di calcio una volta per tutte, lasciando alle spalle questo periodo davvero buio. La squadra prosegue a testa bassa agli allenamenti a rivisondoli in attesa dell'esito del Consiglio di Stato. Una soluzione positiva potrebbe aprire scenari nuovi ed importanti per il futuro della squadra, a livello societario e con innesti per rinfoltire la rosa. Questi i fatti allo stato attuale. Non ci resta che attendere la decisione dei giudici e analizzare il prossimo futuro. Cambiando argomento, a volte la cronaca nera toglie spazio ai racconti sportivi. Notizia di queste ore dell'omicidio avvenuto a Bologna di una donna di quasi 60 anni ad opera di una persona con la quale aveva avuto una relazione in passato. Si tratta di Giovanni Padovani, 27enne di Senigallia, calciatore dilettante in passato anche nelle fila di Olimpia Agnonese e Bastese. Davvero un episodio che ha sconvolto l'opinione pubblica e che riportiamo proprio per i trascorsi che il calciatore ha avuto anche in Molise, con la prospettiva che la giustizia faccia ovviamente il suo corso.